La prima volta. Wow, che cos'è? Guardo fisso questo enorme campo blu e mi perdo. Ma poi la mia attenzione viene catturata da dei puntini luminosi, la cui regina spicca nell'oscurità incantandomi, ipnotizzandomi e facendomi brillare gli occhi. Ripetendomi, wow, cos'è questo sorriso giallo, luminoso e spettacolarmente regale, che mi addormenta la notte e accompagna i miei sogni. Quel grande sorriso con i denti bianchi, come la neve e abbaglianti come il fuoco, si rivolgono a me. Sono sicura che è così, perché quest'enorme macchia gialla mi ha colpito subito. Lei ha vinto. La fantasia di questo velo che segue il giorno è così diversa da ogni cosa. Non ho mai visto niente di così pulito, misterioso e brillante da incantare i miei occhi. Mi persuade. Mi chiedo se porta con sé misteri che solo col tempo e l'immaginazione possiamo scoprire e accettare come meraviglie. Continuo a parlare, a cercare di capire, ma la regina della notte continua a rubarmi l'attenzione e a conquistare il mio cuore. E se fosse lei la dea dell'amore? Mi fissa, la fisso e noto cambianti. È così bella ed elegante, ma allo stesso tempo è così imponente e forte. Comanda la notte e tutte le sue figlie. E nonostante questo continua a brillare, come se fosse la prima idunica. È un faro. Richiama tutto ciò che è meraviglioso. Wow, che cos'è? Non so davvero spiegarlo. Guardo la regina e non riesco a non fissarla. È così bella che vorrei essere la sua figlia più vicina. Grazie. Grazie.